Siamo a novembre. Da qualche giorno Fabio lamenta mal d'orecchio. Non ha febbre ma è molto raffreddato. Vado al pronto soccorso? Siamo in inverno, quindi avere il raffreddore purtroppo sotto i 5 anni è abbastanza comune, tant'è vero che si chiamano mocciosi. E questo quindi può portare anche un po' di dolore all'orecchio. Se però non ci sono altri sintomi come una febbre alta o una fuoriuscita di catarro dall'orecchio, basterà un po' di antidolorifico e vedrà che il bambino starà meglio. Quindi non è il caso di recarsi a un pronto soccorso dove peraltro magari le tocca aspettare un sacco di tempo. Grazie.